Nuovo appuntamento con Spazio Notizia ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Gela, dove la polizia tratte un arresto un quarantenne con l'accusa di atti persecutori. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un quarantenne per il reato di atti persecutori. L'uomo si è reso autore di continui pedinamenti e minacce all'ex moglie e all'ex suocera. L'arrestato, da quanto emerge dagli atti, si infastidiva persino se la moglie andava in chiesa, considerandola una sua proprietà. Tale comportamento ha cagionato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, tale da farle temere per la propria incolumità e costringerla ad alterare le abitudini di vita. Il soggetto, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie, ha più volte violato tale misura recandosi ripetutamente, anche più volte nella stessa giornata, presso l'abitazione dell'ex coniuge. Per tali ripetute violazioni, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima è stata aggravata e sostituita con gli arresti domiciliari. Ma anche in questo caso il quarantenne, approfittando dell'autorizzazione di recarsi al CERT concessa dall'autorità giudiziaria, si è recato ripetutamente presso l'abitazione della suocera dove dimora le ex moglie, continuando così gli atti persecutori. Gli agenti del commissariato hanno applicato, per la prima volta in Sicilia e una delle prime volte in Italia, le nuove disposizioni del Codice Rosso BIS. Questa recente disposizione di legge prevede infatti l'arresto in flagranza di ferita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. A Carini la Guardia di Finanza ha invece sequestrato oltre un milione di artifici pirotecnici che erano detenuti illegalmente. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Palermo ha sottoposto a sequestro oltre un milione di artifici pirotecnici custoditi all'interno di un magazzino di proprietà di una ditta operante nel settore della fornitura all'ingrosso di prodotti per casalinghi. I finanzieri hanno immediatamente constatato il mancato rispetto di qualunque norma di sicurezza che consentisse di detenere le merci pericolose nel rispetto delle stringenti disposizioni previste a tutela dell'incolumità pubblica. Le fiamme gialle hanno pertanto scoperto una vera e propria Santa Barbara, rinvenendo e sottoponendo a sequestro circa due tonnellate di materiale esplodente, che tra l'altro risultava stoccato vicino a materiale altamente infiammabile. Nel corso degli accertamenti, il responsabile dell'attività non sarebbe stato in grado di esibire neanche le previste certificazioni di prevenzione incendi. Pertanto i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno proceduto a segnalare alla locale procura della Repubblica il titolare dell'impresa, ipotizzando, tra le condotte in contestazione, non solo il commercio abusivo di materiale esplodente, ma anche la fattispecie di reato prevista per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci spostiamo virtualmente a Palermo, dove i carabinieri hanno individuato l'uomo che nei giorni scorsi invia la Lumia durante una rissa asparato dei colpi d'arma da fuoco. Si tratta di un trentenne con precedenti penali. I carabinieri hanno identificato l'uomo che ha fatto fuoco in via Isidoro la Lumia a Palermo la notte del 9 dicembre scorso nel corso di una rissa. A sparare almeno sette colpi di pistola tra tanti giovani che scappavano è stato un trentenne del quartiere Sperone. Il soggetto avrebbe precedenti per rapina. I militari dell'arma gli hanno dato un nome già da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata poi nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sarebbero stati futili motivi. Spaccio di droga a Marsala. Un 29enne è stato beccato dai carabinieri. Nascondeva la cocaina da spacciare negli slip. Per lui sono scattate le manette. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un 29enne marsalese gravato da pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto sarebbe stato notato dai militari dell'arma in atteggiamento sospetto e guardingo per le vie del centro storico. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un sacchetto in plastica contenente circa 60 grammi di cocaina, droga nascosta all'interno degli slip. Tratto in arresto a seguito dell'udienza di convalida, il 29enne è stato sottoposto alle misure dell'obbligo di dimora nel comune di Marsala e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Controlli dei carabinieri nei cantieri edili di Messina e provincia sono otto le persone denunciate. Vediamo perché. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Messina con gli ispettori del lavoro nelle ultime due settimane hanno svolto un'operazione di controllo nei cantieri edili della provincia messinese per verificare il rispetto delle normative gius lavoristiche e l'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ispezioni in dieci imprese hanno portato alla denuncia di otto persone tra committenti e imprenditori ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. È stata accertata, dicono i carabinieri, anche la presenza di quattro lavoratori in nero su un totale di 25. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per 46.400 euro e determinate ammende per 174.347 euro. In sei casi su dieci è stato notificato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale impedendo così alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di massimo pericolo per la sicurezza dei propri operai. Un cantiere edile è stato sequestrato per gravissime violazioni sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori dipendenti. Cambiamo decisamente argomento. Mauro Romano ci parla della seconda edizione del premio Franz Buda. È stato un vero e proprio successo di pubblico. Tamako Sakiko Kemi, presidente dell'Archeoclub di Giardini Naxos Taormina. Oggi si è concluso un importante premio. Ecco, come è andata, secondo lei, questa cerimonia così importante che ha visto la partecipazione di tantissime persone? La cerimonia è andata molto bene, è stata molto partecipata, sono venute tante persone che sono state invitate sia da noi dell'Archeoclub che dalla famiglia Buda per questo fantastico premio. Poi abbiamo avuto anche dei bellissimi interventi musicali, quindi devo dire che è andata molto bene anche i premiati, tutti di alto profilo e sono molto soddisfatta. Idolo Buda, figlio del Grande Franz, alla quale è stato dedicato un premio importante. Ecco, quali sono i temi che sono stati affrontati in questa importante manifestazione? I temi sono stati abbastanza vari. Si parla sempre della tutela del patrimonio materiale, immateriale, culturale, archeologico che noi abitanti qua dei giardini di Nassos, di Taormina, comunque dell'Interland, dobbiamo cercare di salvaguardare perché veramente dove viviamo è uno dei posti più belli del mondo e sono stati assegnati appunto da personaggi quest'anno della seconda edizione che veramente sono meritevoli. Onorevole Fabio Granata, a che punto è la candidatura della Feste Classiche di Siracusa come patrimonio immateriale dell'UNESCO? Speriamo a buon punto perché noi abbiamo inviato il dossier al Ministero, così come le normative e regolamenti UNESCO prevedono, un dossier corposo scritto a quattro mani con il grande drammaturgo, il regista Peter Stein che insieme a me è stato l'idiatore di questa proposta. È una proposta fondata sul fatto che dal 1914 ad oggi, quindi 110 anni di teatro classico all'interno del più importante teatro antico scavato in pietra al mondo, il più antico e uno dei più importanti insieme ad Epidauro, rappresentano le rappresentazioni classiche un unicum nella storia della cultura mondiale perché per la prima volta nel 1900 si rappresenta nuovamente la tragedia greca. Nino Buda, da dove nasce l'idea di promuovere Giardini Naxos attraverso il gruppo folk che ha lei ideato e fondato? Noi abbiamo inizialmente, 75 anni fa, inventato questa idea di poter raggruppare con delle canzoni antiche facendo ricantare ai ragazzi. Lo cominciò mio zio nelle scuole. Io poi negli anni 60 l'ho portato avanti, abbiamo fatto degli studi particolari, abbiamo parlato del Salomone Marino, del P3, Fina Favara e così via dicendo per creare una base culturale a quello che facevamo. Quando siamo stati all'estero, la prima volta in Finlandia, ci siamo accorti che poteva essere anche un veicolo di pubblicità turistica. Infatti al ritorno da questo viaggio, molte persone che avevano gustato e assaporato i nostri canti, le nostre aranci che avevamo portato lì da loro, sono venuti proprio a Naxos per incontrarci. Sono andati a finire nei grandi alberghi, allora c'era come la Ratena, la Riva, eccetera, e cercarono di quei ragazzi che li avevano fatti divertire. Così ho pensato che poteva essere benissimo questo, il via ad un turismo migliore e organizzato. Professor Pierfrancesco Bruni, da dove nasce l'idea di effettuare uno studio particolare sugli albanesi? Nel voler capire e comprendere quelle eredità che sono state eredità occidentali in un rapporto dinamico con il mondo dei Balcani, quindi con il mondo dell'Adriatico, in un contesto qual è appunto quello mediterraneo, uno studio che non riguarda soltanto la lingua o i linguaggi, quindi le etnie, ma anche le tradizioni dal punto di vista culturale. Quindi i beni culturali, i materiali e i materiali coesistono proprio attraverso questi processi culturali. Parliamo di turismo per Taormina, le previsioni prevedono appunto una 2024 da record. Nicola Salerno, uno dei più importanti tour operator della zona taorminese, del comprensor taorminese, come è andata la stagione e che previsioni ci sono per un 2024 che potrebbe essere anche scintillante come il 2023? Sicuramente lo sarà, il 2024 è un anno scintillante, meno sono appena rientrato da quando ho fatto sia World Travel Market, sia Varsavia, un collega è stato pure alla Fiera di Cannes, e tutti quanti le notizie sono ottime, le prospettive sono buone. Quindi vedremo il 2024 simile al 2023, noi come operazioni stiamo già portando avanti anche delle operazioni per il 2025, quindi dovrebbe essere tutto bene. Si parla tanto in questi giorni della possibile promozione attraverso i borghi d'Italia, lei che cosa ne pensa di questa iniziativa? Io penso che sia un'idea un po' bizzarra questa dei borghi, che Taormina possa entrare nei borghi, perché la classifica dei borghi è nata appunto per promuovere piccoli centri che diversamente sarebbero meno conosciuti, ma non meno belli o meno interessanti da vedere. Io penso, che so, immagino nei borghi, mi sembra che siano 18-20 borghi siciliani, tra cui c'è Gangi, c'è Caltagirone, Taga di Militello, il paese di Pippo Bado, che oltretutto è anche patrimonio dell'UNESCO, ma la stessa Castelmola. Voglio dire, sono dei paesi che hanno bisogno di visibilità. Taormina non ha bisogno di visibilità, 1.400.000 presenze di residenti tutta l'anno, abbiamo più oltre 2 milioni di visitatori giornalieri, tra le crociere, le escursioni dei giri di Sicilia, escursioni che arrivano giornalmente dalla Calabria. Quindi questa mi sembra un po' un'idea bizzarra. E il Natale come andrà, Salerno? Sì, allora, il Natale come al solito è un periodo che sia dall'estero che in Italia si trascorre in famiglia, quindi sarà un po' sottotono. Ma il Capodanno è un'ottima... registriamo dei buoni numeri. Mi lascio riprendere di nuovo un ultimo spunto per i borghi. Anche la dichiarazione che ho letto che serve per destagionalizzare. Non mi sembra che i centri appena nominati possano lavorare di più d'inverno. Quindi, niente, per me è una butarde messa lì. Chi è del mestiere sa che per destagionalizzare servono altri impegni, altre prospettive e altre reti. Parliamo di salute dalla regione siciliana. Oltre 8 milioni di euro per la riduzione delle liste d'attesa. Ammontano a 8 milioni e 600 mila euro le risorse aggiuntive destinate alle aziende sanitarie provinciali della Sicilia per interventi effettuati dalle case di cura nel 2023, determinando la riduzione delle liste d'attesa per i pazienti siciliani. Lo stabilisce un decreto dell'assessore alla salute Giovanna Volo e del dirigente generale per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino. Il provvedimento, in linea con il piano regionale per ridurre le liste d'attesa approvato dall'Aggiunta lo scorso 27 luglio, prevede che le somme siano distribuite secondo il tetto di spesa provinciale. Proseguiamo, sottolinea il presidente della regione Renato Schifani, nell'impegno a ridurre le liste d'attesa e garantire ai siciliani prestazioni efficienti e in tempi ragionevoli. Le somme saranno assegnate alle aziende sanitarie per remunerare le prestazioni che hanno permesso di governare il fenomeno e offrire una più ampia assistenza ai cittadini, in linea con le iniziative mirate intraprese sino ad oggi dal mio governo. Il provvedimento, aggiunge l'assessore Giovanna Volo, è una conseguenza dell'azione che abbiamo posto in essere anche nel recupero delle prestazioni rimaste sospese a causa della pandemia. L'assessorato non si è fermato e ha proseguito nelle verifiche pure per il 2023, anche per chiudere l'arretrato e gestire la richiesta corrente, migliorando dove possibile la qualità del servizio, ha concluso l'assessore. Tra le prestazioni erogate oggetto del contributo regionale ci sono interventi chirurgici di area oncologica, in area cardiovascolare di media e alta complessità, di urologia, di ortopedia e di chirurgia generale. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia.